Con l'obiettivo di creare una sinergia tra il percorso scolastico e la realtà del mondo del lavoro, alcuni studenti del Don Orione di Fano si sono misurati in ambiziosi progetti di alternanza scuola-lavoro. Per questo l'Istituto Tecnico Industriale ha organizzato un workshop conclusivo in cui sono state raccontate le esperienze vissute dai ragazzi nelle singole aziende coinvolte nell'iniziativa. Tradizionalmente tutti gli anni nel secondo quadrimestre noi avviamo questa attività di alternanza scuola-lavoro che coinvolge la classe terza e la classe quarta, quindi sono circa una sessantina di ragazzi che sono coinvolti sia nelle aziende meccaniche del territorio sia nelle aziende informatiche. Il progetto è un progetto particolare perché non è il classico stagio o tirocino formativo, è proprio una vera e propria alternanza scuola-lavoro, cioè una metodologia di alternanza tra giornate a scuola e delle giornate in azienda, per cui è proprio una metodologia didattica che permette ai ragazzi di sperimentare quello che vede una scuola, sperimentarlo in azienda, quindi operativamente. L'Istituto crede fortemente in questo progetto, a tal punto che ha costituito un comitato tecnico-scientifico internamente alla scuola, al quale hanno partecipato l'amministrazione provinciale di Pesero Urbino, l'Università Politecnica delle Marche e le associazioni di categoria del territorio, Confindustria, Confartigianato e Confapi. Abbiamo scoperto cose nuove, abbiamo lavorato, nel mio caso eravamo in due, ma abbiamo lavorato molto bene, è stato molto producente insomma, abbiamo fatto proprio anche cose all'esterno dell'attività scolastica, insomma del programma regolamentare, è stato veramente divertente anche come esperienza.